moglie madre o figlia dirà la dea ator ha evidenti connessioni solari che si manifestano grazie al disco solare che porta sul capo e con cui talvolta è rappresentata ator dea dell'amore della musica detta anche la vacca celeste la dorata l'occhio dirà a volte ha un aspetto sorprendente ben diverso dal carattere tenero e materno che la caratterizza quando è arrabbiata ator si trasforma in una dea leonessa feroce e assetata di sangue ma anche un lato guaritore sechmet la potente colei che porta piaghe colei che usa la sua ira distruttiva per proteggere il faraone e l'egitto secondo la cosmogonia di menfi sechmet la leonessa è la moglie del dio artigiano patrono degli artigiani e madre del dio del loto nefertum sechmet riceve anche il titolo di signora della vita e come tale può curare le malattie che ha causato con la sua furia la sua virtù curativa era così apprezzata e desiderata che un faraone come amenofi terzo 1390 1353 avanti cristo fece scorta di centinaia di statue della dea leonessa per il suo tempio funerario sulla riva occidentale di tebe c'è una storia che mostra chiaramente le conseguenze del suscitare la furia di sechmet la distruzione dell'umanità compare all'inizio del libro della vacca celeste un testo funerario del nuovo regno 1539 1292 avanti cristo e racconta una storia sorprendente all'inizio dei tempi quando gli dei vivevano tra gli uomini era era il loro re ci fu una ribellione per rovesciare il dio solare che a quel tempo non aveva ancora iniziato il suo viaggio quotidiano attraverso il cielo ra nonostante fosse un dio stava invecchiando e si indeboliva così gli umani decisero che non era più utile per governarli ed era giunto il momento di cambiare il monarca il testo così recita accadde al tempo di ra colui che si creò quando già da molti anni governava insieme gli dei e gli uomini il popolo non si accontentava e i ribelli osavano a congiurare contro il loro re ra cominciò a pensare di lasciare l'egitto e di ritirarsi ma prima aveva bisogno di un consiglio gli altri dei apparvero davanti a ra per consigliarlo finché fu il turno di suo padre nun l'oceano primordiale da cui tutto era emerso nun disse a ra figlio mio sei un grande re tieni il tuo trono e ricorda la paura della gente quando il tuo occhio è su di loro lascia andare il tuo occhio e lei colpirà i ribelli per te rilascia ator e li malvagi intriganti saranno distrutti era fece ciò che gli aveva consigliato suo padre liberò sua figlia ator trasformata in sekmet sull'umanità la leonessa dalla furia devastatrice che devasta i nemici di suo padre con il calore distruttivo del sole il deserto era macchiato di rosso di sangue mentre l'occhio dava la caccia ai traditori e li uccideva uno per uno non si fermò finché le sabbie non furono coperte di corpi poi momentaneamente sazia tornò da suo padre in trionfo per vantarsi dei suoi successi all'inizio ra era soddisfatto ma in poco tempo cominciò a temere le ripercussioni dell'immenso e distruttivo potere che aveva scatenato il dio decise che c'erano già stati abbastanza morti e voleva perdonare il resto dell'umanità forse lo colpì la compassione o forse temeva che alla fine non sarebbe rimasto più nessuno a compiere le offerte quotidiane di cui aveva bisogno comunque sia ra ordinò a sua figlia di fermare il massacro senza successo il suo occhio aveva assaggiato la carne umana e gli era piaciuta era determinata a uccidere di nuovo ra non sapeva come fermare sekmet fino a quando non è scogitato un piano astuto ator sekmet era una dea alla quale la bevanda procurava un enorme piacere infatti è la dea dell'ubriachezza che presiede a un rito chiamato festa dell'ubriachezza che si celebrava nell'egitto greco romano e prevedeva danze musica e un consumo esagerato di alcol così ra pensò di offrire alla figlia scatenata una bevanda che lei non avrebbe potuto rifiutare la birra la bevanda d'egitto per eccellenza aveva un pigmento rosso portato dal deserto che è stato macinato a menfi in una polvere fine il pigmento rosso è stato poi mescolato con l'orzo e sono stati preparati 7000 boccali di birra color sangue ra e gli altri dei hanno ispezionato la birra color sangue ne sono rimasti soddisfatti sekmet decise di continuare con il massacro e finire il resto dell'umanità nonostante le suppliche di ra si diresse nel deserto per completare la sua missione ma ra aveva svuotato lì i 7000 boccali di birra che coprivano tutto con un liquido rosso schiumoso sekmet pensò che fosse sangue e iniziò a berlo senza misura chinato si vide il suo bel viso riflesso nel liquido ed era in trance dimenticando l'umanità l'occhio di ra beve la birra rimase confusa e tornò da suo padre ubriaca e soddisfatta re accolse in pace la figlia ra era riuscito a salvare l'umanità nonostante il suo tradimento ma il vecchio dio trovò impossibile perdonare le persone non voleva più governare la terra in questo modo il dio solare salì sul dorso di nat la dea del cielo trasformata nella vacca celeste me uere e ascese al firmamento l'egitto iniziò allora a scurirsi e gli umani spaventati chiesero a ra di restare ma il dio sole non li ascoltò da quel giorno inizierà il suo viaggio quotidiano attraverso il cielo viaggerà attraverso il corpo di nat che lo inghiottirà ogni notte per partorire il giorno successivo e chiamerà il dio della luna tot il suo sostituto notturno ma la terra avrebbe continuato ad avere bisogno di un sovrano per governarla così ra nominò osiride re d'egitto e lo incaricò di prendersi cura delle offerte quotidiane che gli corrispondevano in questo modo si stabilì che il faraone era l'unica persona che poteva fungere da intermediario tra gli uomini e gli dèi nonché l'unico in grado di salvaguardare il mat l'ordine universale e la giustizia gli uomini si stabilirono e videro in osiride il loro primo re un dio civilizzatore che portò prosperità in egitto impararono anche che era meglio non turbare ator sekhmet hanno imparato a placare la loro rabbia con sacrifici e rituali ogni giorno davanti a una statua diversa forse proprio per questo si sono conservate tante statue di questa terribile divinità duale una dea capace di portare distruzione ma anche di curare i malati